essicchiamo i fichi alla vecchia maniera e cioè puliamoli tagliamoli a metà e facciamoli essiccare al sole ricoprendoli con una rete oppure con un lenzuolo di stoffa ricordate di girare i fichi almeno una volta al giorno dopo circa quattro giorni i nostri fichi sono pronti per essere conservati noi li faremo alla barese e cioè con la mandorla dentro tagliamo finemente il cioccolato fondente laviamo un limone e grattrucciamo la sua buccia e prepariamo le mandorle tanto quanto basta prendiamo il fico mettiamo un po di cioccolato fondente la mandorla il limone chiudiamo e riponiamo su una teglia da forno a questo punto andiamo ad infornare in un forno previscaldato a 180 gradi e per 10 minuti togliamo i fichi con la mandorla dal forno posiamoli su un tavoliere e lasciamo raffreddare completamente appena freddi mettiamo i nostri fichi in un barattolo di vetro chiudiamo il barattolo e riponiamo in un luogo fresco e buio